castelli di sabbia di margherita farai sempre parte della squadra le aveva detto luca per edulcorare la pillola rimanere in ufficio e guardare il mio progetto prendere il volo tu lo chiami far parte della squadra è un progetto che funziona ci ho lavorato giorno e notte per questo voglio metterci la faccia e prendermi quello che mi spetta così come luis ribatte pensando il merito e alla carriera illusioni che si stavano sgretolando davanti ai suoi occhi come castelli di sabbia perché non posso seguire il team e partire anch'io continuò cercando di mantenere un tono calmo coordinare le attività in sede è compito di una stagista il solo pensiero che volessero mettere lei con una laurea in ingegneria robotica un master e più di dieci anni di lavoro alle spalle sullo stesso piano di uno stagista che faceva venire i brividi luca continuava a fissarla perché è meglio che se ne occupi luis è sicuro di sé un prodotto tecnologico di questo tipo presentato da lui è diciamo più rassicurante per il cliente spiegò ascoltami Giulia è meglio così continuò essendosi accorto dell'espressione contrariata della donna sarebbe più semplice anche per te rimanere in sede e non trascorrere i prossimi mesi a girare di una città all'altra del mondo hai un bambino piccolo e l'azienda non può permettersi di gestire l'imprevisto a Giulia ora era tutto chiaro come ingegnere donna non era abbastanza credibile agli occhi dei clienti e in quanto madre appariva poco affidabile per la sua azienda un nodo le serrò la gola recuperò le sue cose e uscì dall'ufficio senza aggiungere altro